Le ruspe della Pedemontana invadono alcuni campi di Trevignano, gli agricoltori insorgono e bloccano il cantiere. Marocchini truffatori chiedevano la carità ai parroci per curare i parenti, poi spendevano il denaro in vizi e vacanze. Troppi gasgani scaricati in autostrada come cani da un camionista ungherese e da Roma Zai annuncia in Veneto presto altri cento. Panchine e giochi per bambini al posto delle macchine, pedonalizzazione dolce per piazzetta dei battuti e i negozianti ringraziano. L'assessore Lorenzo nel mirino di una banda di ladri, tre furti in tre mesi e a rete Veneta dice questo è troppo, cambio casa. Invece di depurare l'acqua era pieno di cocaina, elettrodomestico fatale per uno spacciatore albanese arrestato dai carabinieri. Viaggio tra i maturandi al primo giorno degli esami, tra paura e speranza e la consapevolezza del passaggio all'età adulta. A Montebelluna la presenza in piazza di un G91 scatena la polemica tra opposizione e sindaco che rincara. Dopo l'aereo mettiamo la mongolfiera. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Tg Treviso. La pedemontana è in apertura del telegiornale perché questa mattina alcuni residenti della zona interessata dai lavori hanno di fatto bloccato il cantiere aperto a Trevignano. Protestano perché le ruspe sono entrate senza nessun accordo con i proprietari. La chiamano invasione della pedemontana. Sono i proprietari dei terreni di via Prati a Trevignano che ieri mattina si sono trovati le ruspe tra il grano. Le sono entrate in casa senza dire le niente? No, non mi hanno detto niente. Sono entrate, hanno distrutto il raccolto e vediamo cosa hanno fatto. Lei ha qualche contratto, qualche contatto, qualcosa? No, no. Proprietari che si sono messi davanti alle ruspe e hanno chiamato le forze dell'ordine, alle quali è subito apparsa evidente la mancanza di qualsiasi messa in sicurezza del cantiere. Così le macchine sono tornate indietro in attesa di una decisione che verrà presa a Roma. Il 20 maggio eravamo al Tarlazio e abbiamo discusso la legittimità della pedemontana e siamo in attesa ormai imminente della pubblicazione di questa sentenza. Che dovrebbe arrivare il 20 giugno. Dopo un mesetto circa, sì, verso il 20 giugno. Perché è così importante questa sentenza? Perché si riconferma, è cosa che noi speriamo, l'illegittimità come le precedenti sentenze e le ordinanze, questa pedemontana è illegittima di essere chiusa immediatamente. Un'opera che divide la popolazione, tra chi la aspetta da oltre 40 anni e chi la considera inutile, ora che Manifattura e Capannoni non abitano più da queste parti. Un dibattito che sicuramente tornerà anche in regione, visto che tra i manifestanti, con tanto di stivali, c'era anche un neoconsigliere. Io sono qui per dare solidarietà al proprietario e per dire che appena verrà convocata la seconda commissione politica del territorio, noi chiederemo conto di questa grande opera, sia dal punto di vista finanziario, sia nel merito, nell'utilità di questa opera. Ma al di là delle scelte politiche, per chi è toccato nei propri averi, quello che dà più fastidio, dicevano oggi i manifestanti, è il modo in cui avanza l'opera, senza minimamente tenere conto dei cittadini. Entrano nei campi senza aver firmato o accordo bonario o senza che ci sia un decreto di esproprio, quindi un decreto dove deposino i soldi. Entrano senza avvertire, spianano le culture e non hanno un minimo rispetto delle persone. Voi cosa chiedete allora al commissario? No, noi vogliamo i nostri soldi. Se loro vengono a casa mia, devono dare i soldi prima di entrare. E ora la cronaca. Sacerdoti truffati da una banda di finti poveri marocchini che con la scusa di aiutare familiari e palenti in difficoltà finanziarie, conducevano invece una vita di lusso sfrenato con tanto di viaggio all'estero. Raccontavano ad un prete che la madre era stata accoltellata dal padre che poi si era tolto la vita in carcere, rimanendo così solo con i due fratellini piccoli riuscendo a farsi consegnare 3.000 euro tra viaggi e spese funebri. Una delle emblematiche storie raccontate dalla banda di marocchini per truffare i preti dai 40 agli 80 anni, a cui sono riusciti a sottrarre più di 50.000 euro, soldi attinti dai sacerdoti e dai fondi per i bisognosi. Si presentavano presso diverse parrocchie della Castellana, del Trevigiano, del Vicentino e del Padovano. Cinque i preti che ad oggi hanno sporto denuncia, i tre marocchini finti poveri di 20, 21 e 22 anni, due dei quali residenti rispettivamente ad Asoles e Usino, sono stati denunciati a piede libero, abilissimi nell'implorare la pietade e nel far leva sul senso di carità cristiana per condurre la bella vita a Parigi e all'estero, anche con le due auto comprate dai preti, affinché potessero recarsi i corsi lavorativi in realtà mai frequentati. Ma non basta. Pagando con quasi 5.000 euro, da quest'anno due personal computer per seguire lezioni online. Per gli inquirenti, il numero dei prelati truffati sarebbe destinati a crescere, considerato che il raggiro dal Veneto si sarebbe esteso fino al Friuli Trentino Alto Adige. L'invito che noi facciamo ai paroci è di non abboccare a queste storie che vengono raccontate, anche con grande perizia e risultando molto credibili. Quindi qualora ritengono di avere delle storie che possono sembrare sospette, di rivolgersi senza remore ai carabinieri. Lasciamo per il momento la cronaca per parlare di immigrazione. Nuovi arrivi nella marca, annunciati oggi da Roma dal governatore Luca Zaia. Nel pomeriggio 30 i rifugiati giunti in camion dall'Ungheria e abbandonati in A4. Una trentina i profughi abbandonati oggi pomeriggio in A4 all'altezza di cessalto da un camionista. Si tratta di afghani e pakistani provenienti dall'Ungheria e scaricati dall'autotrasportatore lungo una piazzola di sosta. Gruppo portato poi in una scuola elementare del veneziano per le prime cure. Arrivi che si aggiungerebbero a quelle annunciate oggi dal governatore Luca Zaia a Roma in audizione al comitato parlamentare di controllo Schengen in materia di immigrazione. Che fra l'altro una notizia che io vorrei anche che, vista l'autorevolezza di questa commissione, si possa verificare. Il prefetto mi dice che c'è un arrivo di 100 immigrati dal Friuli Venezia Giulia. Vorrei capire perché arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Se magari poi ci spiegate, perché vorrei anche ricordare che noi siamo assolutamente rispettosi dell'attività della prefettura anche se non la condividiamo assolutamente. Prefettura di Treviso attaccata anche dal mondo dell'associazionismo e dal sindacato che da tempo ma senza esito chiederebbe la convocazione del tavolo della consulta dell'immigrazione per trovare una soluzione alla questione accoglienza. Ma ad oggi con questa prefettura non è mai stato convocato il tavolo la consulta per l'immigrazione. Sindaci, forze dell'ordine, associazioni di migranti, chi opera con l'immigrazione e tutto il resto è l'unico punto in cui si trovano e si confrontano. E credo che per creare le condizioni, per individuare le soluzioni, quello sia un passaggio adeguato. Se ne è parlato nel corso del rapporto di Anolf e Cooperativa Servire sull'immigrazione e che vede la provincia di Treviso al primo posto nel Veneto per il numero di residenti stranieri con oltre 98.000 presenze, delle quali 493 costituite dai profughi giunti da inizio anno. Io sono per un'accoglienza diffusa che se viene gestita in maniera strutturata e in rete dà risultati migliori che le grandi concentrazioni, ma non tocca mai dare queste risposte. E adesso ci spostiamo in città perché Piazzetta Santa Maria dei Battuti sarà definitivamente pedonalizzata entro fine mese. I lavori cominceranno lunedì prossimo. Piazza Santa Maria dei Battuti ne è tappezzata ovunque. I lavori per la ZTL allargata cominceranno lunedì prossimo. L'annuncio dei cartelli di rimozione forzata su tutta l'area e prevista per l'intera prossima settimana sono più che eloquenti. E questa mattina, in giunta, fatto quanto questo lavoro, abbiamo approvato il progetto che quindi adesso troverà realizzazione a partire già da lunedì mattina alle ore 7. I cartelli sono già stati affissi di vetto di sosta, di inizio cantiere per dare ai cittadini il tempo di rendersi conto che poi non dicano, mi chiedono di nuovo, hanno lavori, aprono un cantiere, eccetera, quindi una settimana di lavori grossi della piazza. La piazza sabato prossimo sarà di fatto diversa. Santa Maria dei Battuti di fatto pedonalizzata nell'arco di qualche mese, soddisfatta buona parte del commercio della piazza. Benefici sono che la gente potrà arrivare tranquillamente, potrà arrivare a piedi, potrà sedersi tranquillamente e ammirare anche solo guardando i palazzi che ci sono qua. Se fanno un'area pedonale è molto meglio per tutti, penso, sì. Possibilmente sarebbe l'ideale non avere nemmeno la zona ZTL, comunque è già un passaggio avanti quello di poter usufruire della piazza e non, diciamo, come un parcheggio. Per migliorare la piazza, la città, la città ha bisogno di passeggiare, non basta con le macchine. Tra i pochi baristi e commercianti che temono un calo dei consumi, i cinesi. Se non entra macchina, non c'è fermata, con i piedi si porta roba pesante e difficile, quindi per noi non è bene. Torniamo alla cronaca con il furto ieri sera in casa di Mirko Lorenzon. Il terzo in pochi mesi è già, si vocifera, che l'assessore sia nel mirino dei ladri. L'ennesima visita dei ladri purtroppo è la terza volta in pochi mesi che mi vengono a far visita. Questa volta hanno danneggiato il portone d'ingresso posteriore e come si vede sono entrati. Hanno rotto due quadri che contenevano delle medagliette d'oro di una vittoria di un cane che era andato a fare una gara di cani da caccia. Hanno portato via un paio di orologi, un po' di contanti, hanno rovistato un po' in tutte le camere, hanno lasciato le luci a sede, sporcato un po' di fango dappertutto perché comunque sono entrati da dietro, come la travolta, e poi sono arrivato a casa e quindi il furto è avvenuto dalle 5 alle 18.45 perché sono partito da casa alle 5 del pomeriggio e sono entrato proprio alle 18.45. Questo è il racconto ancora a botta calda, ieri sera nella casa a ridosso del Piave e Negrisia. Tre volte in pochi mesi, tanto da pensare ad una banda che ha preso letteralmente di mira l'abitazione dell'uomo politico, che ancora colpito dall'accaduto ci mostra le stanze dove poco più di un'ora prima sono passati i ladri. È un furto controllato? Diciamo che sono un po' sfortunato ultimamente perché un furto l'ho avuto ancora nel 2014 a dicembre, l'altro adesso quello che hanno sparato a marzo, non mi ricordo più la data e questo qua oggi non me lo aspettavo proprio. Una banda organizzata e quasi sicuramente appostata che ha atteso la breve uscita della vittima per forzare e sottrarre denaro e oggetti facilmente smerciabili. Quindi un furto alla persona e non su commissione, considerando la collezione storica custodita in alcune stanze. Pensavo che la situazione migliorasse ma in realtà vanno a rubare, vedo anche di giorno e qualsiasi ora del giorno è buona. Intanto nessuno dei familiari di Lorenzon vuole più dormire da solo dentro questa casa e lo stesso assessore sta seriamente pensando di traslocare. Mi verrebbe la voglia di cambiare abitazione, dispiace perché ti senti un po' demoralizzato, così che vengono la terza volta, insomma terza volta in pochi mesi non è che sia poco. Ancora cronaca, un chilogrammo di cocaina purissima del valore di oltre 3.000 euro nascosto all'interno di un desalinizzatore d'acqua e trovato dai carabinieri di Montebelluna all'interno di un pacco proveniente dalla Colombia e recapitato a un monte bellunese di 30 anni. Il giovane era semplicemente il prestanome del reale destinatario, un albanese coetaneo dipendente di un negozio del centro commerciale di Castelfranco. Lo straniero, su ordine del GIP del Tribunale di Treviso, si trova ora in carcere a Santa Bona. In base a quanto accertato dai militari, il monte bellunese avrebbe avuto un compenso per fare da prestanome di circa 5.000 euro. Danni combatteva con il male di vivere, oggi non ha retto al senso di disperazione che l'affliggeva da tempo a causa della depressione. Stamattina una nota avvocatessa quarantenne si è tolta la vita nella sua abitazione di Piazza San Vito, nel cuore di Treviso, senza lasciare messaggi d'addio per spiegare il perché del tragico gesto. A ritrovarla senza vita sono stati i familiari che poco prima l'avevano raggiunta nella sua abitazione. Inutile ogni tentativo di soccorso all'arrivo dei paramedici era già deceduta. Sul posto anche il medico legale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e accertato il suicidio. Oggi primo giorno di esame di maturità per 7.777 studenti della marca. E noi oggi per la prova di italiano siamo andati all'apertura dei cancelli del Mazzotti di Treviso. Eccoli i maturanti del 2015, tra sonno e apprensione verso la prova di italiano. Preoccupati? No, no. Preoccupata? No, no. Cosa si aspetta per l'italiano? Ma temi un po' di attualità. Sono gli studenti del turistico di Treviso, dedicato a Beppi Mazzotti, che sin dagli anni 50 aveva capito quanto siano importanti le bellezze del nostro territorio. Quando ci avviciniamo il vociare tra i gruppetti si fa più forte. Preoccupate? Sì, sì. Avete nascosto qualcosa? No. C'è sempre molta emozione in quello che è considerato anche il passaggio all'età adulta. 8 e 5, i primi iniziano ad entrare. A condurli verso il banco d'esame, i professori diventati commissari, anche essi un po' emozionati. Come li vedono questi studenti? Come noi quando eravamo nella stessa situazione. Alle 8 e 30 in punto si scoprono le tracce, dove non c'è la grande guerra ma la resistenza, dove c'è un Italo Calvino minore, in alternativa ad una frase che racconta un universo. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. E se proprio non ci si trovava in nessuno dei temi, restavano i saggi brevi, con la versione artistica e i dipinti di Van Gogh e Matisse da commentare con Dante e Borges. Quella economica, con il saggio del governatore della Banca d'Italia. Quella storica sul Mediterraneo e relative migrazioni. Per finire a quella tecnica scientifica con il mondo trasformato da internet. Temi specchio del nostro tempo, dove da sempre c'è per una generazione una traccia, la penna e il foglio bianco da riempire, per un esame che, diciamocelo, ci ha cambiato la vita. Non andai poi così bene alla maturità, assolutamente. Me la cavai per il rotto della cuffia, sul serio. E ho imparato che non... Sì, dovevo approfondire un po' di più, ecco, impegnarmi seriamente, perché forse erano state un po' presuntuose in quel momento, ecco, sì. Ora ci spostiamo a Montebelluna, dove la sosta in piazza, tra municipio e loggia dei grani, di un singolare veicolo, sta movimentando la politica della città. Sindaco, adesso che hai levato le auto, questa piazza sta diventando un aeroporto, visto che avete montato l'aereo. No, sta diventando uno spazio per eventi culturali. In questo caso l'associazione Arma Aeronautica, che ha una sezione importante qui a Montebelluna e a Cairano, ha voluto, per le notti bianche della città, mettere a disposizione un G91. Ecco l'aereo della discordia, o meglio, della polemica politica. Già perché a Montebelluna non c'è intervento sull'area pedonalizzata tra loggia dei grani e municipio, che non sollevi un polverone tra maggioranza e opposizione. Che nello specifico è l'ex consigliere e concorrente del sindaco con le ultime elezioni Lucio De Bortoli, che su Facebook ha criticato la presenza del velivolo definendolo fuori luogo. Così è nata la classica discussione al bar, con favorevoli e contrari all'aereo in piazza. A dire il vero c'è qualcuno che sussida o muove una certa critica con la frase e chi paga. Però, in linea di massima, la maggior parte sono contenti, specialmente i bambini. Che sia una novità per Montebelluna lo testimoniano i passanti incuriositi e gli scatti col telefonino. Poi c'è chi avrebbe preferito un aereo della Grande Guerra, magari più in sintonia con il Centenario. Il nostro territorio entra in scena fra il 17 e il 18 e abbiamo già intenzione di chiedere aiuto a Zanardo, l'imprenditore che a Nervesa della Battaglia sta ricostruendo tutta una serie di aerei del primo conflitto mondiale. Sembra quasi una partita a volley tra fazioni, con schiacciata finale ironica di De Bortoli e muro del sindaco Favero. Lucio De Bortoli dice, bello a questo punto, perché non metteci anche una mongolfiera? A Lucio De Bortoli voglio fare un'assicurazione, appena avremo sistemato le piazze metteremo la mongolfiera per ammirare il nuovo centro dall'alto. E adesso una delle vostre segnalazioni, l'orto botanico di Treviso che sembra abbandonato nel degrado. Giardini pubblici e parchi abbandonati a Treviso. Tra incurio e degrado e vandalismo, i danni dei giochi per bambini e una manutenzione che non c'è per pulizia e falciatura dell'erba. La segnalazione del consigliere comunale di minoranza Mario Conte. L'ho evidenziato anche in consiglio comunale e ho inviato tante segnalazioni che purtroppo non sono rimaste inascoltate. Degrado che vede in primo piano il parco pubblico di San Paolo. Qui per esempio c'è la staccionata che è stata danneggiata e sono già mesi che purtroppo rimane qui a terra, nessuno la sistema. Ma anche le giostrine hanno necessità di essere manutentate perché ne va della sicurezza dei nostri bambini. I limiti del patto di stabilità e le ristrettezze economiche comunali tra i motivi, ammette il consigliere, che avrebbero costretto l'amministrazione a tagliare le citate manutenzioni, cosa tuttavia non giustificabile. Probabilmente sono le prime voci spese a essere trascurate, sbagliando però perché consideriamo che i parchi sono dei punti di ritrovo per le famiglie, per i bambini e quindi dove ci sono bambini ci vuole assolutamente sicurezza. I costi di manutenzione non sono eccessivi e sono convinto che con un piccolo sforzo l'amministrazione sarebbe in grado di garantire la sicurezza dei bambini. La politica dopo il voto, i migranti e Salvini che attacca il Papa se ne parlerà questa sera a Focus, in studio con il direttore Luigi Bacialli dalle 21.05, Roberto Ciambetti, Piero Ruzzante, Leonardo Muraro, Jacopo Berti, Raffaele Speranzon, Francesca Zottis, Vivian Moro e Mauro Conte. Come al solito, aspettiamo i vostri sms. Il telegiornale termina qui, buona serata a tutti. Grazie a tutti.